Con il Presidente della Federazione Ristoratori Cinesi di Torino parliamo dell'accordo in divenire con l'Associazione Cuochi del Territorio. Che progetto avete? Allora, questo progetto è nato già nei menti di un po' di anni fa, cioè decina di anni fa, però attualmente adesso con il Presidente Lambetto abbiamo un accordo molto distretto per nascere proprio per il cuochi cinese che vive in Torino, in Piemonte, per nascere, per qualificare i nostri cuochi cinesi in Torino. Quindi un progetto di qualità e di formazione? Di qualità e formazione e partirà a presto, quindi con il nostro nazionale di cuochi cinesi.